Lo stato degli stock ittici nazionale viene valutato nell'ambito del descrittore 3. Secondo quanto prescritto dalla strategia marina, tutti gli stock commerciali devono essere sfruttati in modo sostenibile. Vengono quindi considerati gli impatti sulle risorse marine determinati dalla pesca commerciale ed anche quelli della pesca ricreativa e della pesca illegale, non riportata e non regolamentata. Il descrittore 3 contribuisce con altri descrittori alla valutazione degli impatti della pesca sulle specie di valore conservazionistico, sulle comunità ed habitat di fondo e sugli ecosistemi marini nel loro complesso.